laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e pierluigi bianchi cagliesi vi parla oggi per il nostro commento del giorno fino a dove ci si può spingere in un itinerario di menzogna di sopraffazione di capovolgimento della verità e qualcosa di inaudito che mai avremmo potuto immaginare in quest'epoca veramente incredibile in cui stiamo vivendo che in molti casi anche qualcosa di surreale pensate che dal regno unito arriva una proposta dell'alta commissione cioè della low commission di estendere anche a contesti privati il reato di incitamento all'odio relativo ad opinioni espresse su tematiche come l'orientamento sessuale siamo veramente alla follia perché siamo arrivati al punto ormai in cui si vorrebbe anche entrare nell'ambito delle famiglie nell'interno nel cuore delle case dove si svolge anche un ruolo educativo una trasmissione di valori e cercare di istigare una specie di meccanismo di delazione tra i membri della famiglia per verificare quali sono gli orientamenti che i genitori vorrebbero qualche modo trasmettere ai loro figli e attraverso questo poi scatenare una reazione che possa anche produrre delle conseguenze gradi gravissime sul piano penale pensate dove stiamo arrivando praticamente per capire meglio che cosa propone questa low commission del regno unito pensate appunto a immaginare se qualcuno ad esempio in una famiglia provasse a dire qualcosa sui gay pride nella sua casa per esempio cenando in famiglia ecco che la polizia potrebbe arrestarti questo potrebbe essere lo scenario tragicomico futuro se dovesse passare appunto nel regno unito questa proposta della low commission di estendere anche a contesti privati il reato di incitamento all'odio relativo ad opinioni espresse su tematiche come l'orientamento sessuale la razza la religione reato fino ad oggi perseguibile solo se le parole offensive sono state pronunciate in un luogo più in un luogo pubblico ma non basta la commissione appoggiata in pieno da un sa usaf che il segretario della giustizia ha pensato di estendere questa tutela penale anche ad altre categorie ritenute socialmente fragili come gli anziani disabili panche i feticisti sessuali gli asessuali coloro che non si sentono attratti né dagli uomini e dalle donne i naturisti coloro quindi che praticano il naturismo il nudismo i vegani e udite anche gli attivisti che combattono i cambiamenti climatici quindi avrebbero dovuto estendere questa protezione legale anche quegli insani di mente che hanno partorito questo tipo di proposte di legge e ritroviamo queste stesse pecche nei discorsi d'odio che sono un'involuzione dei reati di cui abbiamo parlato perché ad esempio affermare con un bambino per crescere sano ha bisogno di un padre e di una madre può venire considerato un reato e quindi dipende dal giudice che cosa deciderà di fare se qualcuno volesse portare l'attenzione dei magistrati una dichiarazione di questo genere e nessuno può sapere che cosa potrebbe essere deciso come conseguenze di questa affermazione che un bambino per crescere sano ha bisogno di un padre e di una madre vedete che il discorso d'odio è uno strumento al servizio del politicamente corretto puoi parlare male di chi vuoi ma non di certe categorie di persone che incarnano queste nuove spinte rivoluzionari e in tema di soprattutto sessualità ambiente immigrazione questi sono i punti centrali su cui si abbatte una censura mediatica e giudiziaria pensate che nel nord europa spesso il discorso d'odio coincide con l'incitamento all'odio ad esempio affermare che l'omosessualità e contro natura significa fomentare odio contro le persone omosessuali quindi banale a dirsi che nemmeno i proponenti di questi testi di legge credono che questa equivalenza sia sempre vera ma questo non importa l'importante come abbiamo detto zittire chi da pensa in modo diverso quindi un intento che in questo caso è veramente discriminatorio perché si toglie la possibilità di affermare la verità di affermare anche un'opinione a chi la pensa in maniera difforme dal pensiero politicamente corretto una cosa veramente allucinante in cui tutti si devono convertire al politicamente corretto sia o cioè a questa ideologia arcobaleno green immigrazionista inclusivista dunque non importa un bel niente il luogo dove hai magari ha fatto affermazioni contro il mainstream corrente in pubblica piazza o nel segreto del tuo soggiorno l'importante è che l'hai fatto anche se tu l'hai fatto a casa tua un bel giorno un figlio potrebbe denunciarti e è sotto la spinta naturalmente di insegnanti che portano alla sensibilità di questi giovani questi temi fondamentali che devono essere difesi anche contro gli stessi genitori e vedete che non è un caso che proprio questo diritto alla privacy tanto sbandierato noi farmi il famoso articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e tutela la vita privata che è sempre stato richiamato per aprire le porte all'aborto l'eutanasia la fecondazione artificiale le nozze gay qui però non vengono chiamati in causa proprio quando sarebbe necessario farlo e quindi in questa ipotesi la casa privata diventa casa del popolo dove lo stato con i suoi gendarmi può ascoltarti spiarti su tutto quello che tu dici per verificare se sei nemico del popolo oppure no sembra di essere veramente cari amici tornati al terrore stalinista in cui anche a tavola si doveva stare attenti a ciò che si diceva per paura che tuo figlio tua moglie ti denunciassero alle autorità per discorsi contro rivoluzionari e c'è da immaginare che questa riforma voluta dalla law commission spingerà molti alla delazione privata eppure anonima anche come una forma di vendetta privata per questioni familiari risolte ricordatevi che in russia nell'epoca soprattutto stalinista esisteva la buca della delazione dove ognuno poteva mettere un bigliettino con sopra scritto che un parente di casa un familiare un amico una persona che di cui ci si voleva liberare aveva fatto affermazioni contro il regime aveva detto delle cose in relazione alla propria fede e questo era sufficiente perché la polizia del regime piombasse in casa sequestrasse questa persona e poi dopo un velocissimo processo farsa lo trasferisse in qualche gulag cari amici tele radio ascoltatori dove stiamo andando dov'è la coscienza delle persone in questo momento che anche dicono di essere cattolici praticanti di pregare di essere anche devoti della madonna dove sta finendo se non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo in questo momento e se prendiamo le distanze per paura per complicità per spirito di compromesso da una situazione che ci deve coinvolgere se vogliamo essere veri cristiani autentici cristiani in questo momento difficilissimo vedete che questa decisione è figlia di una ideologia di una utopia egalitaria che vuole eliminare ogni differenza a tutti i costi perché chi è rivoluzionario considera un'ingiustizia la diversità in quanto tale in qualsiasi tipo di diversità in questo senso e a rigore dovranno essere perseguibili anche oltre opinioni espressioni di pensiero perché dirsi cattolico molto presto suonerà come una minaccia verso i seguaci di altre religioni e questo vedete apre grandi interrogativi soprattutto per chi oggi vuole difendere la verità perché coloro che sostengono queste posizioni si considerano i buoni anche se teorizzano l'uccisione degli innocenti e noi dovremmo farcene una ragione loro sono i democratici anche se per vincere le elezioni devono sempre ricorrere a imbrogli frodi e truffe di ogni genere loro sono i difensori della libertà anche se ce ne privano ogni giorno di più loro sono gli obiettivi e onesti anche se la loro corruzione i loro delitti sono ormai sotto gli occhi di tutti anche dei ciechi e la verità vedete ricordiamolo sempre soprattutto per coloro che la vogliono difendere con tante difficoltà con tanti sacrifici in questo momento è in sé esiste a prescindere dal fatto che vi sia chi le presta fede perché possiede in se stessa in maniera proprio ontologica la propria ragione di validità la verità non può essere negata perché essa è un attributo di dio è dio stesso e tutto quello che è vero partecipa di questo primato sulla menzogna possiamo quindi essere teologicamente anche filosoficamente certi che questi inganni hanno le ore contate perché cari amici basterà far luce su di essi per farli crollare ricordatevi sempre quell'umile semplice fiammella che si sprigiona da una candela che ha in sé la forza di scongiurare le tenebre questa è la forza della verità beati coloro cari amici che seguiranno queste indicazioni di sapienza e serviranno umilmente e fedelmente la verità perché a essi il signore lega delle grazie straordinarie di cui saremo sempre più consapevoli con l'aggravarsi della situazione e a tutti voi cari amici teleradioscoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti